Il ragù, c'è chi fa il ragù con i pomodori freschi. Io penso che con i pomodori freschi ci voglia anche il famoso concentrato di pomodoro, quello che dà la sostanza. La carne deve essere il meglio possibile, possibilmente carne di maiale, e soprattutto i profumi, la puntina d'aglio, che vada piano piano e alla fine profumi di buono. Grazie per la visione!